Gómez Palacios Il nome tradisce le tue origini, di cui sarai orgogliosissimo, sei spagnolo. Esatto, te l'accento subito. Di dove? Di Almeria, del sud. Di Almeria. Sono veramente terrone anch'io. Terrone spagnolo. Allora io ho raccontato nel presentarti che la tua storia, ed è una storia imprenditoriale di successo possiamo dirlo, e poi ci arriviamo tra qualche minuto magari nel raccontarla, ha avuto inizio un po' di tempo fa da una situazione un po' particolare, e ci arriveremo anche lì. Per arrivare a raccontare questa cosa, ti va di un po' ripercorre la tua storia, anche personale imprenditoriale, prima di arrivare ad essere imprenditore? Da dove nasci, da dove vieni a livello professionale? Diciamo che non è lunghissima perché non sono troppo vecchio, mi considero una persona molto giovane, però è cominciata circa 15 anni fa, io lavoravo in Spagna, mi è stata fatta un'offerta per venire a lavorare in Italia, per un progetto di un paio d'anni, e quindi sono venuto, ho cominciato il mio viaggio in quel momento là, allora viaggiavo per raggiungere certe mete, ormai diciamo che viaggio più per godermi il viaggio stesso, e allora sono venuto, ho lasciato la mia casa, ho lasciato le mie certezze lì a Madrid dove abitavo allora, e sono venuto a Torino, ho lavorato per quattro anni in una società di automobili, non è la Seat, come potete immaginare. Abbiamo una foto qua, c'entra qualcosa quella foto? Potrebbe c'entrare qualcosa, sì. Potrebbe c'entrare qualcosa. Quindi ho lavorato nel settore auto per un po' d'anni, poi per scelta propria, per altri motivi, ho mollato quell'attività, un'attività sicura, un'attività che mi dava certa soddisfazione, però che forse mi limitava un po' in quello che io vedevo nel mio futuro. E quindi da lì ho cominciato certe attività nella consulenza, nella certificazione energetica, cose che non c'entrano molto né con il mio background né con quello che faccio adesso, fino al momento in cui sono inciampato in un negozio Tiger. Prima di arrivare lì, perché un primo passaggio importante, adesso non mi va il Fabietto, mi giri tu la slide, fai qualcosa, però non riesco a mettere, volevo mettere quella foto lì dall'auto, perché comunque rappresenta un po' tu lavoravi per Fiat Alfa Romeo, corretto? Sì, esattamente. E a un certo punto della tua vita hai deciso comunque di abbandonare quel posto, che comunque era un signor posto di lavoro, ok? E questo in qualche maniera ha avuto per te un effetto di alleggerimento? Cioè è stata anche qui una scelta dettata anche dal desiderio di essere più leggero nelle cose che facevi? Sì, diciamo che al momento non l'ho vissuta così. È stato un cambiamento abbastanza radicale, sono dovuto un po' reinventarmi io stesso, però ovviamente poi se guardo quello che è successo dopo quel momento mi rendo conto che è stato un alleggerimento non da poco che mi ha permesso poi di affrontare comunque anche la vita professionale e personale in un modo diverso. Sul momento è stato anche vissuto come un cavolo, ho perso comunque una cosa, non è andata a buon fine questa idea, questo progetto di lavoro con loro e quindi tra virgolette una pseudo sconfitta, no? Esattamente, esattamente. E in realtà poi sei stato impegnato imprenditorialmente con altre cose che andavano anche discretamente, no? Sì, sì, di fatto poi ho fatto alcune attività, alcune le mantengo tuttora, spazzando un po' su diversi settori. Lì ho riscoperto anche un po' certe motivazioni che forse non avevo più, uno lavorando per una grande azienda, dove un po' la routine veniva uno a riempire la giornata senza realmente sapere se sarei andato oltre quel lavoro là. Certo, certo. E arriviamo a questa vicenda appunto tu e tua moglie a Madrid, se non sbaglio, no? Sì, eravamo circa cinque anni fa, eravamo a Madrid e siamo entrati per caso in un negozio Tiger che credo che ormai, spero che tanti di voi conosciate, quindi siamo andati in questo negozio e abbiamo trovato un concept completamente diverso di tutto ciò che avevamo visto fino all'ora, ovviamente volevamo comprare tutto, portare tutto con noi. Peccato che dovevamo poi tornare in aereo, quindi di nuovo ripartire per un viaggio con una compagnia low cost per cui ho comprato due penne e due caramelle perché di più non ci stava la valigia. Quindi aspetta, la storia narra, le voci di corridoio dicono che in realtà era tua moglie che voleva prendere un sacco di roba e tu le hai detto no perché con Ryanair non si può portare nulla, corretto? Corretto. È andata più o meno così? È andata così. Un po' te l'ha giurata o quantomeno ti ha detto ok ma questa roba qua la voglio comprare in Italia. Esatto, infatti non ci siamo preoccupati, abbiamo detto figurate se non c'è un Tiger in Italia e di fatto non c'era, però poi siamo tornati, rientrati a Torino, abbiamo guardato sul sito se c'erano questi negozi, a Milano probabilmente, una città un po' più avanti, in realtà non c'erano e da lì è partito questo iter di contatti esporadici con la casa madre per capire all'inizio semplicemente se come mai non c'erano i negozi, cosa stavano aspettando, visto il concept così attraente. E un po' per gioco è nata l'idea perché poi ci hanno detto no non c'è, stiamo cercando chi sviluppa il marchio in Italia ma ancora non abbiamo trovato le persone idonee. Quindi perdone, tu li hai contattati da potenziale cliente che voleva dire ma perché non siete anche in Italia, cercavo della roba qui dove vi trovo, qui siete andetti, noi in Italia non ci siamo perché non abbiamo mai trovato un partner e lì è iniziato il dialogo di interesse eventualmente a farlo tu. Esatto, poi è nato un po' in realtà loro chiedevano quando ci siamo informati, per pura curiosità abbiamo chiesto che cosa stavano cercando, che profilo di soci locali e quindi persone con esperienza nel settore che noi non avevamo, soldi da investire che noi non avevamo, tempo da dedicare che noi non avevamo perché allora, perfetto, infatti quello è il paradosso di questa società che è un po' un conventional come dicevo. Non solo sai, questo paradosso noi cerchiamo adesso di affrontarlo, analizzarlo un po' da coach della serie, vedete che alle volte le strade sembrano sbarrate, le porte chiuse, della serie mi avvicino, ci sbatto la testa capito, come per aprirle con la testa e non si aprono invece non è proprio così, anche laddove sembra che non possiamo entrare, non possiamo percorrere quella strada, forse un modo c'è, perché quello che dice la carta forse non è quello che poi può accadere nella realtà, accadono un po' delle forme di magia se vogliamo. Com'è accaduto che questi nonostante il no questo, no questo, no quell'altro, si convincono comunque a dialogare con voi con l'idea di assurirvi in Italia. Sì, da una parte dopo quella manifestazione di quelli che erano i requisiti anche noi avremmo potuto dire no guarda non siamo fatti per questo, però poi non abbiamo nulla da perdere per cui abbiamo detto ma noi saremmo interessati ecco i nostri curricula, non sono quello che voi cercate però siamo bravi a fare altro, abbiamo messi d'accordo un gruppo di amici fra i quali io e mia moglie e quindi ci siamo presentati e poi loro forse più attirati dalla curiosità per dire chi sono questi pazzi che comunque cercano di andare avanti su questa storia quando abbiamo già chiarito che non è quello che cerchiamo e poi però siamo stati nella parte intraprendenti nel senso che ci siamo dati da fare in quei due mesi prima del primo incontro per farli capire che comunque pur non avendo l'esperienza o non avendo quei requisiti teorici potevamo sicuramente offrire qualcosa di diverso e sicuramente la passione e la voglia di… Che cosa secondo te ha fatto la differenza e li ha convinti? La passione? Sicuramente la passione, la tenacia, quindi dire ok non abbiamo questo ma guardate che questo può funzionare e poi trovare dall'altra parte un interlocutore che comunque apprezzava un aspetto umano che magari in altre occasioni non ci sarebbe neanche arrivato quell'opportunità di parlare direttamente con chi poi ci ha ricevuto e ha detto che sembravamo quelli giusti. Quindi fammi capire bene, da una questione di leggerezza della serie il bagaglio a mano che non può essere riempito e quindi per questioni di peso e di leggerezza non potete portare in Italia questi oggetti, li cercate e da lì nasce il… ok si parte con questa avventura Tiger e apriamo il primo negozio. Esatto. Dove? A Torino, a Torino abbiamo aperto il primo negozio non per scelta strategica ma per pigrizia perché eravamo là, abitavamo a Torino quindi ci è sembrata logica la scelta di aprire il primo negozio là. È stato un grande successo veramente inatteso perché non ci aspettavamo poi ovviamente il successo che ho avuto dall'inizio. Secondo te quali sono stati gli elementi principali di quel successo? Allora sicuramente il concept di per sé di questo marchio è super potente, quindi poi la mancanza anche di concorrenza, in Italia come dicevano i nostri partner quando venivano a vedere i centri città, in Italia c'è solo abbigliamento, scarpe, basta. Quindi è stata relativamente semplice portare qualcosa di nuovo e poi soprattutto il capitale umano, noi abbiamo investito tantissimo e continuiamo ancora a investire in ogni persona che entra in azienda e ci teniamo molto a sceglierle non perché siano belli o perché siano più forti o più intelligenti ma per avere uno spirito giusto, quindi gente che si diverta lavorando, gente che si senta parte del progetto dall'inizio alla fine, di fatto anche nel lavoro che fanno cerchiamo di renderli partecipi di tutto quello che è questa azienda e quello sicuramente fa la differenza. Poi ci piace sorprendere i nostri clienti, quindi ci addobbiamo con ogni tipo di gadget, di articolo in vendita nel negozio e questo mix di cose un po' nuove sicuramente ha portato il successo ai nostri negozi. Ci tenevo a chiedere una cosa, di fatto, rimaniamo ancora quel primo negozio, ottiene successo, vedete che è un po' il concept che tira di per sé, la concorrenza, era evidentemente anche il momento giusto senza forse neanche saperlo, ma era il momento giusto per aprire una cosa così, in quella realtà. E poi ci sono stati altri e altri e altri, quanti negozi avete aperto? Intanto in quanto tempo parliamo? Quanto tempo fa il primo negozio? Aprile 2011 è stato il primo negozio, quindi faremo cinque anni tra un paio di mesi. E quanti negozi avete? Adesso abbiamo 39 negozi. Fatturato annuo? Infatti abbiamo chiuso il 2015 con oltre 50 milioni di euro, 52. Applaudio anche io. Direi di sì, direi di sì, è un successo pazzesco. E prossimamente avete, nel 2016 c'è qualche progetto particolare rispetto al lavoro? Aprire altri negozi. Aprire altri negozi. Avete già idea quanti? Sì, una decina, non abbiamo neanche, ormai non è più una questione di quantità ma di qualità, quindi non abbiamo in obiettivo grandi numeri ma continuare ad aprirli a questo ritmo che fa le cose bene. Diciamo che c'è una cultura molto, non dico di rilassamento, però le cose vanno fatte bene, cercando di pianificare tutto al meglio. Certo. Come ti dicevo, abbiamo una politica di promozione interna, quindi tutti i nostri responsabili sono assunti come detti vendita, quindi ci vuole anche un tempo per farli crescere e quindi è quello che determina un po' la nostra velocità di crescita anche, quindi è tutto abbastanza, ormai è molto ben strutturato, però non abbiamo fretta a sviluppare, poi alla fine diciamo che i numeri di sviluppo sono già importanti, però... Quando ci siamo incontrati con Javier, mi ha raccontato un po' anche le sue policy all'interno dell'azienda, le relazioni che hai con le persone, se dovessi dire, perché è vero che il concept tira, però è anche vero, tu mi hai detto questo, che l'Italia sta funzionando meglio degli altri paesi, cioè siete un modello d'eccellenza rispetto anche a altri posti, è corretto? Sì. Quindi in realtà al di là del concept state lavorando proprio bene, che cosa fa la differenza tra il tuo modello, comunque molto simile rispetto agli altri come concept, ma nelle modalità fatte in maniera diversa, cosa sta facendo la differenza secondo te? Secondo me paradossalmente il fatto che il nostro background era completamente diverso e quello ha portato all'azienda delle novità. Cavolo, fermo, importantissimo. Quello che poteva all'inizio essere un minus, cioè un difetto, in realtà dopo si nota che è un pregio, quantomeno una risorsa che se utilizzata bene può fare la differenza. Sì. Spettacolo. Infatti ci siamo trovati poi anche all'interno dell'azienda a livello globale, noi siamo stati pionieri in sviluppare delle cose che non si facevano ancora in questo gruppo. Hai degli esempi, ad esempio, cosa avete fatto? Sì, perché mia moglie lavorava nell'ambito CRM e quindi noi abbiamo portato un sacco di iniziative sul CRM che in questa società non si faceva prima, ma né qua né in Danimarca né in nessun altro paese. E quindi adesso siamo un po' i pionieri su queste attività e vengono di altri mercati a capire che cosa facciamo. Insomma ci sono stati veramente dei vantaggi nell'avere a bordo persone con altri background, quindi questo è stato molto utile. E poi sicuramente, come dicevo prima, il lavoro che facciamo sulle persone, quello è fondamentale. Che cosa vi caratterizza in questo? Cerchiamo di essere molto vicini, noi siamo un negozio, lavoriamo nel commercio, quindi noi dall'ufficio a Torino possiamo raccontarci quello che vogliamo, ma se poi non è il commesso alla cassa che trasmette i nostri valori non serve a niente. Quindi abbiamo capito da subito che bisognava investire su di loro per cercare di trasmettere esattamente i nostri valori fino al cliente finale e quello pagato dall'inizio. E di fatto è sicuramente la cosa più importante. Là ci danno un'indicazione perentoria. Allora, Javier, per essere qua con noi oggi, è venuto giù da Bardonecchia se non sbaglio, che eri con la famiglia lì per un weekend di relax. Non nevica mai? Quest'anno non ha nevicato? Ha nevicato stanotte, stamattina? Nevicato ormai da 12 ore interrottamente. È dovuto venire in treno, abbiamo dovuto insomma accelerare perché se no poi perde il treno come ci hanno scritto lì. No, c'è ancora un po' di tempo. Hai ancora qualche cosina? Allora, la chiusa di questo nostro incontro, il motivo per cui abbiamo chiesto a Javier di dedicarci il suo tempo è per dare un ulteriore modello, esempio di un po' anche di serendipiti della serie. Casualmente succede qualcosa, all'inizio sembra una sfiga, sembra una cosa andata male, dietro la cosa andata male c'è una grande opportunità. Poi bisogna essere bravi a coglierla. E siete stati bravi evidentemente a svilupparla. E ancora una volta, dietro a quello che potrebbe sembrare un difetto in prima battuta, si nasconde invece l'opportunità, la possibilità di farla diventare una risorsa. Io vorrei che queste cose centrassero nel sangue. Abbiamo qua davanti un esempio di chi lo ha fatto. E guardate che se l'ha fatto una persona lo possiamo fare tutti, evidentemente in tutti gli ambiti della vita in cui una persona è impegnata. Ma dietro ogni problema o difficoltà si può nascondere una grande opportunità che permette oggi a Javier di essere un imprenditore di grande successo e di sviluppare una cosa che è molto bella. Io sono stato qualche giorno fa nel negozio di Reggio Emilia, mi sono divertito perché tra l'altro le commesse, le persone che lavoravano erano tutte con le alette da farfalla sulle spalle. Ecco, questa idea di essere meno serio un po' alla Richard Romagnoli, non essere non seriosi ma anzi divertirsi con i clienti e divertirsi mentre si lavora. Sì, quello è fondamentale. Non c'è modo migliore di tirare fuori il meglio delle persone che farle divertire e farle venire al lavoro per divertirsi, perché ci sta anche divertirsi in quello che uno fa. Un'ultima cosa, poi ti lascio andare. Quando ci siamo incontrati mi ha detto, ecco, se devo essere sincero, forse l'unica cosa un po' in cui sono, non maniacale, però che ci ho tenuto è essere stato sempre io comunque presente nella selezione delle persone. Cioè tutte le persone che lavorano oggi in Tiger Italia in qualche maniera ti conosco. Io ho provato, ho fatto il tuo nome lì, sì, sì, figurate. Mi dici che cosa soprattutto cerchi in una persona, che cosa vuoi che abbia come caratteristica una persona per poter dire posso contare su di questa, su questa persona? Allora, chi magari lavora nelle risorse umane saprà che è molto difficile da un colloquio personale cercare di tirare fuori, quindi è molto difficile. Però io quello che cerco, io quando faccio un colloquio e appunto ho intervistato tutti i 400 impiegati che abbiamo un'azienda, quando finisco il colloquio, credo che con quella persona potrei andare a bere una birra o avere una certa discussione di un colloquio, non so, è una questione di pelle, se mi trovo bene con quella persona e credo che sia adatta, direi che è la persona giusta per intraprendere insieme questo viaggio. È un po' una questione di, preferisco avere un'azienda piena di amici, che non magari gente bravissima che però non ho quel feeling personale. Signori, sfonda una porta aperta. Javier Gomez Palacios, Tiger Italia, Beautiful Day 2016. Grazie Javier. Grazie.